state per vedere un video della serie non era una brava persona rubrica dedicata a un approccio simpatico e senza pretese alla letteratura italiana come potete vedere il titolo è seguito da una faccina con un sorriso al contrario tale faccina detta anche emoji nel cerco visuale condiviso dalla società dell'immagine indica ironia scherzo ciò è volto a sottolineare che il suddetto titolo è ironico non dissacrante non sarcastico ironico avvertenze la visione del video è sconsigliata a chi prende la vita troppo sul serio e chi non è disposto a tollerare approcci poco accademici allo studio delle discipline umanistiche peace and love guys ah quest'ultima cosa non è ironica amiamo la letteratura italiana è di una bellezza disarmante dopo luigi non possiamo fare altro che parlare di lui giovanni giovannino più probabilmente giovannuzzo quando era nico perché era siciliano quindi è possibile che si chiamasse così o meglio che venisse chiamato così io sono molto contenta di parlare di lui oggi di parlare del verismo in generale perché è un movimento che mi piace particolarmente e poi quando si parla degli autori siciliani mi sento un po più serena è come se potessi tirare un bel respiro di sollievo perché sì insomma mi sento un po a casa penso che sia anche normale no esponente di spicco del verismo ma non solo giovanni verga è stato anche colui che in un certo senso ha rinnovato lo stile di scrittura e gli intenti della letteratura italiana e sono sicura che tutti voi nella vostra carriera scolastica vi siete imbattuti almeno una volta in giovanni verga perché uno di quegli scrittori che non si possono come si dice oggi semplicemente schippare cioè è uno di quegli scrittori che vuoi o non vuoi devi studiare magari grossolanamente magari a un passato magari veloce 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 però comunque giovanni verga lo studi e perché lo studi perché giovanni verga è un autore importante perché è un autore che ha dato un fondamento un fondamento sicuramente di spessore a quello che è stato appunto il movimento verista in italia a catania lo conoscono tutti naturalmente al di là della letteratura perché sapere in sicilia ma in tutti i paesi c'è una piazza verga o una via verga o un corso giovanni verga sapevo ora non sono certa che sia ancora aperta ma fino a qualche tempo fa c'era una pizzeria che aveva rinominato le pizze con i nomi dei personaggi dei romanzi giovanni verga e quindi la margherita era diventata nedda e la quattro stagioni era diventata lo zio crocifisso la capricciosa era diventata padron toni e via dicendo noi oggi ci inoltriamo nella vita e nell'opera di verga in realtà lo faremo in una maniera un po' anomala rispetto a quello che abbiamo fatto negli episodi precedenti di non era una brava persona perché partiremo proprio dalle opere cioè faremo quello che qualsiasi insegnante decente dovrebbe fare e non come facciamo qui che di solito spettacoliamo e ignoriamo i capolavori giovanni verga comincia a scrivere fin da piccolino quando ancora era soprannominato giu annuzzo ed era seguito da un insegnante che si chiamava antonio abate che io non penso sia il santo cioè sarà un'omonimia immagino mi sembra abbastanza ovvio no giovanni comincia a studiare con lui e siccome antonio abate era un patriota ed era un patriota appassionato convinto che cosa fa instilla nella mente e nel cuore di giovanni verga la passione per il patriottismo per la patria tutta e una infatti le primissime opere di giovanni verga lo sapete come si intitolano i carbonari delle montagne sulle lagune amore patria già i titoli ve lo stanno dicendo da soli che cosa vuole raccontare verga qual è la sua intenzione qual è la sua anima principale perché naturalmente era influenzato da questo maestro che poi era anche uno scrittore però comunque uno scrittore mediocre sicuramente giovanni verga lo avrebbe superato anche lui si era iscritto in giurisprudenza ma esattamente come luigi capuana che abbiamo già visto scritto in giurisprudenza ad un certo punto molla gli studi perché perché quelli sono gli anni dei moti garibaldini sono gli anni in cui garibaldi insieme ai suoi mille arriva in sicilia sono anni in cui c'è una vita attiva dinamica partecipata per cui giovanni verga di stare all'università a studiare non ne vuole sapere rimango a brodo sempre come si dice qua continua però a scrivere perché la scrittura diventa per lui un modo di indagare l'umanità e allora scrive un romanzo siamo nel 1866 un romanzo che si intitola una peccatrice ed è un romanzo secondo me un po pucciniano come trama è la storia di un aspirante scrittore si chiama pietro questo aspirante scrittore che ad un certo punto si innamora di una donna tale narcisa una femme fatale una donna fatale diciamolo in italiano che più semplice e questa donna ricambia il suo sentimento d'amore soltanto nel momento in cui pietro diventa ricco cioè nel momento in cui scrive un dramma che riscuote una certa fama e allora tac narcisa gli cade fra le braccia ma narcisa è consapevole del fatto di non essere una donna diciamo forte in termini di capacità di sentimento è consapevole della volubilità del proprio carattere e anche della fragilità di questo amore ragion per cui decide di fare una scena madre con una fine proprio drammatica per cui si avvelena fra le braccia di pietro che ovviamente rimane traumatizzato e da quel momento smette di scrivere o meglio continua a scrivere ma insomma qualche poesiola in occasione del festeggiamento dell'onomastico dei cugini e si sa che il parentado siciliano è particolarmente copioso perciò sicuramente le occasioni per scrivere non gli mancano però magari non era esattamente il tipo di realizzazione artistica alla quale mirava c'è chi vede già nel romanzo una peccatrice i primi semi di quello che può essere considerato il principio ispiratore e l'anima stessa della scrittura di giovanni verga ossia il principio dei vinti chi sono i vinti che avrete sentito nominare qualche volta i vinti sono gli sconfitti coloro che sono stati battuti dalla vita la vita è più forte il destino è già stato scritto le parche hanno già tessuto il loro filo e di conseguenza l'uomo non può pensare in nessun modo di rompere questo destino di mutare le carte in tavola di riscriverselo da sé chiunque prova a mutare a cambiare quello che è stato per lui definito è destinato esclusivamente alla sciagura alla sventura alla miseria insomma dicono tutti che quello pessimista è giacomo leopardi ma a me fra leopardi e verga sembra che verga sia messo un pochino peggio il favore del pubblico lo tiene nel 1870 quando pubblica puntate su una rivista il romanzo epistolare storia di una capinera che spero abbiate sentito nominare almeno qualche volta perché molto rinomato la rivista sulla quale pubblica questo romanzo si chiamava la ricamatrice ed era la versione ottocentesca del moderno racam una rivista di ricamo di cucito penso che la conosciate io sì perché mia nonna era abbonata e quindi le arrivava a stare vista tutti i mesi e a proposito di folklore siciliano visto che stiamo parlando di questo vi racconto un episodio personale che ci sta sempre un pochino no come la marena sopra il gelato quando avevo 12 anni mia nonna iniziò a realizzarmi il corredo io non so se da altre parti d'italia si usa questa cosa in sicilia sì ancora si fa le nonne preparano il corredo quindi insomma ricamate le trapunte le federe tutte queste cose e allora mia nonna cominciò a regalarmi questi completi da letto ogni volta me ne portava uno e mi diceva con un bel sorriso questo eppa prima notte di nozze va bene nonna poi me ne portava un altro decorato uno una volta me l'ha fatto con le iniziali mie la m la pare che mi dovevo sposare con me stessa comunque mi porta questo mi fa chissu eppa prima notte di nozze va bene nonna grazie insomma arrivata alla dodicesima pariurra non mi sono più potuta trattenere e ho chiesto a mia nonna ma togli una curiosità secondo te io dovrei sposarmi per dodici volte o trascorrere la prima notte di nozze cambiando lenzuola lei mi ha guardata mi ha fatto un gesto con la mano come per liquidarmi e non mi ha dato nessuna risposta cioè mi ha fatto capire che la mia domanda era del tutto irrilevante e che il valore del corredo è superiore il corredo è sacro ma torniamo a giovanni verga e al suo romanzo storia di una capinera che come vi dicevo riscosse particolare successo tant'è vero che fu pubblicato appuntate su questa rivista ma subito dopo ottenne un contratto da parte dell'editore trevesse che era un editore particolarmente rinomato che glielo pubblicò in volume storia di una capinera è un romanzo abbastanza drammatico anzi senza l'abbastanza proprio un romanzo drammatico che però all'epoca evidentemente piaceva tanto come tema come stile come come pervore allora che succede è la storia di una giovane educanda maria che viene portata dalla famiglia in un convento all'età di sette anni praticamente dentro questo convento trascorre la vita perché lei era destinata a farsi suora per tanto tempo trascorre le sue giornate dentro questo collegio fino a quando ad un certo punto non esce si azzarda uscire per andare a trovare suo padre e non l'avesse mai fatto che cosa fa quando esce si imbatte in un giovane nino ora io non lo so se questo nino era una done ma sicuramente per lei è stata una specie di rivelazione l'arcangelo gabriele perché voi capite abituata maria a stare dentro il convento e guardare soltanto veli e crocifissi delle monache nel momento in cui gli appare nino un attimo una scossa di adrenalina avete presente quel vecchio spot della fiat dove c'era la ragazza che si arrabbiava e sbottava adesso basta esco e vado col primo che incontro ecco a nino sarà bastato presentarsi davanti a lei e dire buonasera per farla cadere ai suoi piedi era abbastanza logico no che poi appunto il destino di maria poverella era quello di farsi suora ma non suora sorsolina salesiana cioè insomma un tipo di ordine che le avrebbe dato più di vivacità nella vita no monaca di clausura e fosse stata una sua scelta la cosa poteva anche andare bene il problema è che non era una sua scelta è stata una monacazione forzata tant'è vero che la povera maria gestisce malissimo questa costrizione anche perché per peggiorare le cose che succede che nino sposa la sorellastra di maria e quasi dice a chi non c'erano scecca vera che per tradurvelo è non ce ne sarebbero altri asini al mercato cioè giusto giusto quello ti devi andare a prendere fra tante possibili la sorellastra di maria e maria impazzisce e si lascia morire ora se questo romanzo uscisse nei giorni nostri io non lo so che tipo di successo potrebbe avere perché non è un tipo di storia che svetta no in classifica però all'epoca evidentemente piaceva tanto infatti giovanni verga ebbe diversi diversi stimatori e grazie a questo romanzo e anche ad altre cose che comincia ad avere un discreto successo scrive a questo punto eva un romanzo che non so perché non si fila mai nessuno è la storia di un doppio fallimento amoroso e sociale poi nel 1874 arriva una novella una novella importantissima che segna il vero e proprio passaggio di verga da quella sperimentazione iniziale dei romanzi di cui abbiamo parlato al vero e proprio verismo che diventerà poi la pietra miliare della sua produzione il racconto o novella in questione si intitola nedda ed è una storia che affonda le sue radri radici nella miseria e nella bassezza di una condizione di vita molto molto dolorosa arroccata in una sicilia tradizionale ferina primigenia la protagonista è una raccoglitrice di olive che si chiama appunto nedda e che nel giro di niente perde l'innamorato e la figlia ciò nonostante si manifesta ancora felice soprattutto grata più che felice grata nei confronti della vita perché la morte ha sottratto la figlia a quella vita agra aspra piena di sofferenza alla quale sarebbe andata incontro se avesse continuato a vivere roba allegra è proprio da banchetto noziale che felicità questi dovete sapere che sono anni in cui giovanni verga non si trova in sicilia giovanni verga si sposta viaggia si stabilisce a firenze poi si stabilisce a milano e sono anni in cui la sicilia la comincia a guardare da fuori e su questo tema tanti critici tanti studiosi ci sono poi soffermati sul fatto che giovanni verga abbia iniziato a raccontare la sicilia ad ambientare le sue opere in sicilia proprio negli anni in cui in sicilia non stava più perché certe volte e questo un po forse ci serve anche nella vita per avere una visione più chiara delle cose bisogna allontanarsi dalle cose stesse perché restare nel posto in cui quelle cose prendono vita in cui quegli eventi nascono si evolvono e calcificano in certi casi può diventare quasi svilente ma anche restrittivo cioè impedisce di guardare le cose in maniera netta in maniera oggettiva c'è una componente troppo interna troppo personale e questo succede anche un po nella nostra vita no quante volte se stiamo troppo dentro ad un problema ad una situazione personale ci troviamo poi incapaci di giudicare con oggettività quello che sta succedendo e quindi quello che fa giovanni verga poi fondamentalmente si sposta esce dalla sicilia e da fuori riesce a guardare con un occhio critico un occhio straniante quella che è la società perché occhio straniante perché la tecnica che lui adopera è proprio quella dello straniamento raccontare senza esprimere il proprio punto di vista quindi siamo ben lontani da quello che faceva lo zio ale ogni tanto gli alava la morale e faceva il grillo parlante no qui non c'è nessuno che ci dice che le cose dovrebbero andare in un'altra maniera ma c'è una descrizione il più possibile esterna il più possibile neutrale degli eventi che sconcertano il lettore perché non essendoci una chiave di lettura morale o comunque parziale possono elaborare una propria percezione delle cose e le cose si oggettivizzano forse sto rendendo la cosa un po troppo complicata però è il periodo in cui giovanni verga comincia a sperimentare ed è così che nascono dei personaggi che sono ormai parte del nostro immaginario con delle pulsioni delle passioni fortissime nasce la lupa con la sua passionalità incomprensibile nasce un ragazzino dai capelli rossi che comincia a scavare con le unghie nella terra per cercare di recuperare il cadavere del padre che è rimasto sepolto e viene circondato da uomini che ridono di disprezzo perché non capiscono la sua disperazione verga ci pone davanti ad una schiettezza della vita ad un dolore della vita che è tanto più doloroso proprio perché non è compatito e sono le novelle tra le sue opere di maggiore livello ma chiaramente non sono le uniche lui attinge al sudore dei campi mentre luigi attingeva al folklore come abbiamo già visto e non solo perché nella mente di giovanni verga c'era un progetto un progetto che era molto più definito rispetto a quanto potessero fare tanti altri c'era una poetica che lui esprime nella prefazione ad una novella intitolata l'amante di gravigna e di cui io vi leggo qualcosa per farvi capire qual era l'idea che stava alla base della scrittura di giovanni verga caro farina farina e salvatore farina il destinatario di questa lettera introduttiva la novella eccoti non un racconto ma la boccia di un racconto esso almeno avrà il merito di essere brevissimo e di essere storico un documento umano come dicono oggi interessante forse per te e per tutti coloro che studiano nel gran libro del cuore io te lo ripeterò così come l'ho raccolto per i viottoli dei campi pressappoco con le medesime parole semplici e pittoresche della narrazione popolare e tu veramente preferirai di trovarti faccia a faccia col fatto nudo e schietto senza stare a cercarlo fra le linee del libro attraverso la lente dello scrittore il semplice fatto umano farà pensare sempre avrà sempre l'efficacia dell'essere stato delle lacrime vere delle febbre e delle sensazioni che sono passate per la carne io vi invito a continuare a leggerlo questo passaggio lo trovate proprio in questa introduzione perché è una chiave di lettura e di voluta spiegazione da parte di verga di quella che è la sua poetica il fatto che deve parlare da solo ci dice il fatto nudo e schietto è lì non stare a cercarlo fra le linee del libro è lì davanti a te e tu potrai sentire attraverso quel fatto quello che vorrai questa tecnica narrativa appunto giovanni verga alla fine in particolare in due raccolte che sono le novelle rusticane e la vita dei campi ma lo fa anche nelle sue opere romanzi principali che dovevano far parte del famoso ciclo dei vinti di cui si accennava prima questo ciclo doveva raccontare l'evoluzione di vari personaggi che corrispondevano a vari gradini della scala sociale quindi si partiva dal gradino più basso per arrivare alla classe sociale più alta in realtà di questi romanzi poi giovanni verga ne ha realizzati solo due interamente e sto parlando chiaramente dei malavoglia e del mastro don gesualdo gli altri tre non li ha poi completati sappiamo i titoli che dovevano essere la duchessa di leira il l'onorevole scipioni e l'uomo di lusso però abbiamo il titolo è poco più qualcosa di più di qualcuno ma poi oltre questo nulla mastro don gesualdo è un bel tomone non ci si rende mai conto perché col fatto che queste storie vengono antologizzate vengono purtroppo fatte a pezzi nei libri di antologia non si percepisce la reale sostanza ecco vanno vanno un pochino un pochino considerati e il mastro don gesualdo già ce lo dice il titolo stesso mastro e don è un bello simolo perché mastro è quello che fa le maestranze quindi stiamo parlando di muratori carpintieri gente che lavora mentre il don è un signore questi due termini insieme gozzano cioè non è che stanno bene insieme perché uno è mastro e don ma gesualdo è nato mastro ed è diventato don e come il punto che sappiamo bene qual è l'idea di verga che non si può nascere in un modo e morire in un altro cioè se nasci povero se nasci sfortunato se nasci yellato così devi restare non puoi cambiare la tua condizione se lo fai peggio per te e lui che ha voluto mettere insieme queste due cose non se la passa tanto bene insomma il nostro mastro don gesualdo è quello che i francesi definirebbero un parvenio che io sicuramente avrò pronunciato male e allora te lo dico alla sicura che ve lo pronuncio benissimo era un arrivo dutu appunto uno che è nato povero e ha cercato di diventare ricco ma in realtà non è diventato mai veramente un signore in malavoglia invece viene considerato da tanti il cavolavoro di verga anche se molte persone non amano questo romanzo io vi devo dire che l'ho sempre apprezzato non tanto per il per l'idea per la poetica perché io fondamentalmente sono un ottimista e invece quest'idea così pessimista questo ideale dell'ostrica verghiano questa tristezza questa condanna alla sciagura al disastro insomma un pochino mi vengono pesanti però sempre apprezzato lo stile di scrittura di questo romanzo questo paese questa trezza che sembra vivere queste strade che brulicano di personaggi vivissimi di personaggi passionali personaggi che cercano in qualche modo sgusciando come dei pesci impazziti però cercano in qualche modo di cambiare la propria condizione io l'ho letto più di una volta e lo trovo un romanzo veramente appassionante e poi credo che questi personaggi siano davvero verosimili abbiano tanto di vita da dare da raccontare quando questo romanzo esce però nel 1881 giovanni verga non ottiene il riconoscimento che sperava e come avevamo anticipato luigi la buona cerca di confortarlo in qualche modo gli scrive una lettera un po da pacca sulla spalla di insomma non te la prendere troppo sul personale sai che ci sono opere che vengono bene opere che vengono meno bene opere che vengono apprezzate opere che magari devono aspettare 40 50 100 anni per poter essere apprezzate inoltre lui ritorna in sicilia ma in sicilia non viene visto tanto di buon occhio perché aveva questo modo di fare particolarmente scontroso poi si vestiva sempre di nero da mavaro e se ne dicevano una serie su di lui infatti andiamo un po al nostro gossip che lo so che vi piace che lo so che lo state aspettando giovanni verga non si sposò mai ma intrattenne una relazione sentimentale piuttosto lunga circa 15 anni con una donna che si chiamava paolina greppi lester ora pare che durante questa lunga relazione che non convolò mai a nozze giovanni verga abbia intrattenuto anche una corrispondenza epistolare piuttosto fitta con un'altra donna dina castellazzi alla quale scrisse la bellezza di 500 lettere tra il 1893 e il 1922 queste lettere furono poi ritrovate da uno scrittore modicano che si chiamava raffaele poi domani complimenti per il cognome che cosa fa raffaele poi domani pubblica queste lettere sul quotidiano la sicilia e gli eredi di verga non la prendono piuttosto bene anzi lo accusano e lo denunciano lo querelano per diffamazione tuttavia raffaele poi domani viene comunque assolto in cassazione aiuto spero che gli eredi abbiano un migliore senso dell'umorismo cioè gli eredi di oggi no rispetto a quelli degli anni 50 perché se guardano questo video potrebbe finirmi male come poi domani giovanni lasciamo stare queste preoccupazioni del momento ha avuto anche altri problemi in particolare nel mondo dello spettacolo del teatro soprattutto sapete che una delle novelle più celebri di giovanni verga è cavalleria rusticana famosissima molto molto conosciuta soprattutto perché esiste che cosa esiste un'opera lirica conosciuta quella di mascagni bene dovete sapere che in realtà pietro mascagni allestì quest'opera ispirata alla cavalleria rusticana di verga senza chiedergli il permesso cioè mascagni pensò di allestire quest'opera intitolando la cavalleria rusticana e dando i personaggi gli stessi nomi dei personaggi della novella di verga senza chiedere a verga il permesso quindi verga lo denunciò per la questione dei diritti d'autore in realtà se ne uscì soltanto con un risarcimento è per niente soddisfatto perché abbiamo capito che nella famiglia verga la mosca al naso non se la fanno passare allora che cosa fece decise di assoldare un altro compositore per scrivere un'altra opera sempre intitolata cavalleria rusticana da contrapporre a quella di mascagni che non gli piaceva tanto domenico molleone realizza quindi un'altra opera per far concorrenza al rivale che faceva sold out tutte le sere ma la storia finì malissimo finì malissimo perché domenico molleone venne denunciato per plagio e giovanni verga non ebbe la soddisfazione di vedere un'opera diciamo autorizzata ebbe problemi anche con il cinema non lo amava non lo apprezzava lo definiva castigo di dio e romanzo d'appendice per analfabeti mi piaceva invece la fotografia esattamente come a luigi capuana nella casa di catania che vi invito a visitare se venite qualche volta da queste parti sono stati rinvenuti alcuni anni fa 400 negativi che contenevano appunto diverse prove dell'autore che si divertiva a fotografare se stesso quindi c'era una serie di selfie ma anche delle fotografie di paesaggio e non soltanto siciliane anche degli altri paesi delle altre città del nord italia dove aveva soggiornato e che per lui erano un punto di riferimento importante per l'elaborazione dei tratti somatici dei suoi personaggi gli ultimi anni giovanni li passa a catania e li passa in una chiusura sempre più pessimista non ama particolarmente scrivere in questa fase scrive per il teatro però scrive più per dover perché lo deve fare non per reale ispirazione il programma dei nazionalisti gli piace e vorrebbe che l'italia partecipasse alla guerra nel 1920 viene nominato senatore d'italia e due anni dopo si spegne di cosa non lo so la causa della morte anche questa volta l'ignoro e non proverò a fare supposizioni perché come avete visto gli eredi sono pericolosi e siccome potrebbero sapere dove sto di casa preferisco non dire niente e fermarmi qui io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine e avere conosciuto un po l'opera è il pensiero di giovanni verga e noi ci vediamo prossimamente qui sul canale con un altro video e ancora con non era una brava persona ciao